Icotea, scuola superiore per mediatori linguistici autorizzata dal MIUR, fornisce la possibilità di seguire il corso di storia dell'arte LART02. Iscriviti al corso di storia dell'arte per conoscere l'arte preistorica, mesopotamica, egizia, greca, etrusca, romana, medievale, gotica, fino all'arte contemporanea. Al termine del corso di storia dell'arte LART02 Monteore 300 conseguirai 12 CFU utili per il recupero del tuo debito formativo per partecipare a concorsi pubblici o avanzamento di carriera. Per saperne di più vai su www.icotea.it, tipologia, corsi singoli, avvia la ricerca, cerca, corso di storia dell'arte LART02 Monteore 300 CFU 12.